Io per ditta la prima volta che sono venuto qua, ci avevo 11 anni, ho detto fra sto un paradiso. Noi abitavamo a Roma e da Roma poi se stiamo trasferiti qua. Mi piacerebbe pure andammene, perché a me tipo il solito posto dopo un po' mi stanca. Adesso che in qui ci sto io qua, tu non te ne vai. Quando entrò la protezione civile a fare il nostro sgumper loro entrarono per emergenza a fiume. Stavo qui a girare il fuoco, mi dicevano che doveva andare in onda 60 e quanti metri dalla Sardegna. L'onda non si è mai vista. Non c'è nulla di differente a parlare di Vittorara che suonava su una chitarra in Cile e a parlare di Cicchi Realesa all'idroscalo, perché in casa pure qua la vogliono togliere. Ma che vuoi fare? Sposate il primo deficiente che passa, che va a campare 20 euro al giorno perché va a fare questa giornata, te che va a fare le sopracciglia, le amichette tua e i baffetti per guadagnare 10 euro al giorno. Ma un po' d'ambizione non ce l'hai? No. No. Ho fatto quello che si può, non sento più ma toccherò, c'è troppa verità in ogni storia. Ho fatto quello che si può, non sento più ma travel.